Eccoci qua, siamo qua con due delle piccole del gruppo, riduci dalla bellissima vittoria di domenica con l'Under 18 e stiamo affrontando insieme questa settimana della B, per la partita di sabato vediamo un po' cos'hanno da dire Ecco Anna, cos'hai da dire? Domenica abbiamo guadagnato una grande vittoria, arrivando prima in classifica, ma adesso ci stiamo concentrando per la partita di sabato allenandoci al meglio per guadagnare dei punti importanti per la classifica Poi mia Valentina, la più piccola, anche lei riduce da questa partita, come stai affrontando questa esperienza con il gruppo della Serie B? Benissimo, il gruppo è fantastico e mi sto trovando veramente molto bene Bene, quindi vi aspettiamo tutti sabato qua al Palamaclodium Forza, bravo!